a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questa nuova recensione di questo film horror uscito da un paio di giorni ovvero appendage spero che ho pronunciato bene uscito sulla piattaforma disney plus prende una novità del 2023 detto da questa anna zlokovic e riesce diciamo a entrare in questo horror nel se lo vogliamo mettere nel sottogene del body horror cioè si vede che ama il gene di david kronenberg e si è ispirata anche altri film sempre con quelle creature ecco mi ha ricordato anche un po bed milo che è uscito una decina di anni fa che io vi consiglio di vederlo casomai lo rivedrò e ve ne parlerò perché non me lo ricordo bene mi ha ricordato anche basket case questo film ricorda molto quel genere horror degli anni 80 cioè nel senso che film di adesso sono pochi nel senso che si cerca di essere diversi ecco perché sono tutti uguali horror di oggi parliamoci chiaro sono tutti uguali forse 23 all'anno escono che sono diversi dagli altri o che si basano come questo qua cerca di portare un genere che non va più di modo per il body horror e riportarlo a in auge si lo so che ci sono altri film body horror ma sono pochissimi cioè non arriva quasi niente la trama è semplicissima abbiamo questa anna una stilista cerca di farsi valere perché sta lavorando sta cercando di farsi prendere da questo stilista famosissimo e che è anche molto rompicoglioni e stronzo nel senso che giudica sempre male quello che fa anna i suoi i suoi vestiti come di disegno eccetera come li crea finché capiamo che anna ogni volta che si arrabbia ci si vede proprio l'appendice che gli gonfi in modo assurdo cioè una cosa surreale nel senso che se ti fa male l'appendice non è che te gonfia e fa dei strani suoni e ti esce del pus cioè fuoriesce sta roba quindi vediamo che anna è molto stressata ogni cosa gli dà fastidio e si tiene sempre tutto dentro questa cosa del tenersi dentro gli sta facendo male ovvero che inizia a creare quasi una creatura che uscirà proprio che abbandonerà il suo corpo perché questa creatura proprio viene nutrita da tutto il marcio da tutte le cattiverie che subisce le arrabbiature che si prendono strana quindi questa creatura prende vita ha una vita propria quindi esce gli arrabbiisce di tutti i colori tutti gli insulti anche lui la insulta cioè finisce e non solo viene insultata da le persone però ne ha rotto il cazzo pure lui ci si mette in mezzo seppure la sua famiglia quindi fa spaventata rinchiude questa creatura e cerca di capire perché no quindi avremo un film che cercherà di ci sarà un'indagine lei che cercherà il motivo come è stato possibile che questo cazzo di appendice è diventato una creatura vivente che ci può anche parlare e qua si ritorna come detto ai film di basket case al body horror di david cronenberg ovvero queste creature semiviscite così nel senso proprio che ti fanno accaponare la pelle e ti fanno passare anche la voglia di mangiare e mi è piaciuto perché questa creatura non è fatta in cg anche qui è fatta e si vede che è un animatronics che viene mosso gli occhi con qualcuno che sta con un telecomando dall'altra parte mi fa piacere che ancora oggi lo so che tanti di voi che mi segue sempre sa che io sono un amante quando vedo le cose fatte a mano artigianali e non cose fatte in cgi io veramente è perché sono dalla vecchia scuola non ci posso fare niente quindi questa creatura vediamo che si nutre proprio della rabbia di Anna anche con tutto ciò che è lontano è come wifi cioè prende lei come gli la manda a distanza dà del potere a questa creatura e inizierà anche a diventare molto grande questa creatura io non voglio dirvi nient'altro però questo film non solo è molto divertente nel senso che succede sempre qualcosa cioè non annoia mai prende molto ha una fotografia molto pulita fredda però l'ho trovata adeguata al contesto del film perché lei viene trattata a parte la sua amica e lì vediamo che prende la fotografia cambia quando lei è contenta che sta con la sua amica sta col suo fidanzato si inizia a cambiare la fotografia diventa più calda più rilassante quando lei da sole affronta queste i problemi della vita diventa freddo perché ci sta nel senso che la vita è fredda con noi cioè non è che sono tutti calorosi con noi quindi la fotografia inizia a cambiare mi è piaciuta questa cosa che cambia allo stato d'animo della protagonista e dovete farci davvero caso perché il mio occhio attento che io sono veramente pignolo soprattutto quando mi piace un film o veramente mi fa così cacare io inizio diciamo ad analizzarlo appello di minchia lo so è un modo molto non è molto professionale a dire analizzare appello di minchia però io sono io quindi mi è piaciuta anche questa cosa e anche si va a affrontare varie tematiche tematiche anche umane nel senso che non è soltanto questa creatura che inizia a prendere il sopravvento che ne so come i film degli anni 80 tipo Basket Case che alla fine sta creatura va a ammazzare la gente o come Bad Milo va a ammazzare la gente e via discorrendo abbiamo anche una tematica importante dell'essere umano ovvero la depressione il non sentirsi accettato dal prossimo e anche il fatto che spesso e volentieri il vero nemico non è chi abbiamo di fronte ma chi abbiamo dentro ovvero noi stessi quante volte noi abbiamo fatto delle scelte sbagliate o non abbiamo avuto il coraggio di imporci in quel momento e che ne so il capo ci ha messi i piedi in testa non abbiamo avuto un aumento abbiamo perso l'amore della nostra vita o abbiamo perso l'occasione di farci valere o dare un pensiero per cambiare che ne so uno che sta in medicina o lavora in elettronica e inizia diciamo potrebbe cambiare il mondo o cambiare anche il suo di di stato invece ci teniamo tutto dentro perché abbiamo il primo nemico e quello che abbiamo dentro c'è il fatto del pensare rimuginare dice sì no non lo faccio no non lo fare fai una stronzata c'è sempre un qualcosa che come vestimo una doppia personalità parliamoci chiaro ognuno c'è sempre dentro qualcuno un qualcosa di noi stessi che ci ferma a farlo e lei Anna lo butta fuori questa ciste cioè proprio questa questo essere che gli porta tutti questi malpensieri viene creato e per niente è una persona malvagia cioè è tutto il male che si è tenuto dentro che ha sorbito e che si è fatta sempre autocritiche anche se la creatura gli dice che è una testa di cazzo e non ha mai affrontato di petto varie situazioni e si è fatta sempre mettere i piedi in testa quindi mi è piaciuta questa cosa ho detto ah meno male non è soltanto la creaturina che va a ammazzare la gente si va a nutrire no anzi la nostra Anna Zlokovic vuole dirci ehi ma li vogliamo affrontare i mostri che ci abbiamo dentro cazzo reagiamo alla vita prendiamoci quello che è nostro cerchiamo di farci valere nella vita non facciamoci calpestare o fare i finti sorrisi per far stare bene gli altri e poi dobbiamo stare male noi e questo è il messaggio del film non è solo la creatura capite? e questa è una cosa che non voglio dirvi cosa succede nel film ma il film davvero merita tantissimo perché la creatura va a finire che presenta più coraggio di lei proprio ad affrontare la vita e anche a dargli dei consigli che è lei stessa quella creatura perché faceva parte di lei quindi lei stessa si dovrebbe dare i consigli non c'è bisogno che cazzo lo esci fuori questa cosa e ti devi iniziare a parlare devi affrontare tu stesso tu non abbiamo bisogno della creatura per prendercela con lui poi iniziare il film a prendere giustamente inizierà a cambiare e succedere varie situazioni che non voglio dirvi ma è un film che intrattiene è intelligente e fa ragionare lo spettatore e secondo me dopo la visione vi potrete prendere il coraggio di chiamare che ne so la vostra amica e di cazzo ti amo piripipipipà o che ne so avere il coraggio di dire quello che pensate anche nel importante che non offendete nessuno nel senso però non ci state male voi cioè dovete essere più coraggiosi se volete fare una cosa fatela io ci vorrei fare un video a riguardo prendete me e ora mi state ascoltando che io sto facendo questa recensione nessuno credeva in me che avrei iniziato a fare i video lo so che non sto facendo grandissimi numeri però ho un contratto youtube che nessuno si sarebbe mai immaginato che ci riuscivo ad arrivare a più di mille diciamo ragazzi siamo arrivati a 1413 poco fa ho visto e per me siamo tantissimi lo so chi scorta questa recensione e dice ma questo qua sta divagando no perché tutti mi dicevano no non farlo invece io dentro di me non mi sono voluto fermare perché mi ero messo un freno anni fa forse avrei avuto più iscritti e per colpa di questo di fermarmi io stesso mettermi io il freno perché per questo vi ho detto i veri nemici non sono quelli attorno a noi ma sono quelli che abitano dentro di noi perché quelli non ci lasceranno mai sono h24 con noi non è come il capo stronzo o l'amico che vi critica alla fine lui è a casa sua non mi ne frega un cazzo e tu non ti ne frega niente te lo dimentichi pure ma quando quell'essere quell'essere vive dentro di te ti martorierà i coglioni tutti i giorni perché ti ricorderà che sei una merda ti ricorderà che non hai avuto i coglioni ti ricorderà che tu non hai il coraggio di affrontare varie situazioni e questo film davvero cazzo se si continua così potrebbe rientrare io l'anno scorso non l'ho fatto perché non ho visto tutti gli horror mi dovrei recuperare alcuni horror di quest'anno ma rientrerebbe non scherzo nella mia top 10 del film horror 2023 mi è piaciuto tantissimo la recitazione della protagonista è stata bravissima a interpretare il suo ruolo tutti i personaggi sono tutti funzionali alla trama abbiamo un'ottima regia bella chiara senza essere sborona anche se non è niente eccezionale però abbiamo una regia bella mi è piaciuta la regia di Anna Zlakovic e anche la sceneggiatura tutte le tutte le volte che si parla non sono chiacchiere al vento tanto per allungare il brodo del film sono chiacchiere discussioni utili alla trama sono sempre cose che quasi quasi ci parlano a noi stessi certe volte ci sentiamo quasi quasi inclusi in questa in questa trama e non ditemi di no diceva vabbè ma sei solo tu ma chi è che ditemi siete tutti quanti che avete il coraggio di fare tutto nella vita non vi siete mai tirati indietro per colpa vostra che vi siete sentiti dentro fermare perché c'era un qualcosa che vi fermava perché avevate paura non mi dite di no perché sarebbe una grande cazzata una grande bugia io vi ringrazio davvero a tutti come sempre se volete supportarmi qua sotto avete modo come supportarmi gratuitamente e non perché è inutile dirlo sempre e ora voglio andare a parlare degli spoiler io come sempre vi ringrazio a tutti mi raccomando andate per vedere il film lo trovate su Disney Plus non piratatolo per l'amor di Dio o per l'amor di qualsiasi cosa che ci tenete per favore perché vorrei più filmoro così io sono contento che Disney Plus sia in mossa a portare qualcosa perché stiamo arrivando cazzo al 20 ottobre e ancora non portava niente ha portato soltanto piccoli ibridi quindi io sono felicissimo dovrei vedermi The Boogie Man che sta sempre su Disney Plus tranquilli me lo vedrò so che quello già è stato portato da tante persone che è uscito al cinema io vi ringrazio a tutti ora ci sarà la parte spoiler se la volete sapere la parte spoiler vi andate a vedere il film e tornate qua e vi ascoltate un po' cosa ne penso e cosa vi dico allora scopriamo che prende questa creatura si nutre come ho detto si nutre e inizia anche a crescere cioè diventa una copia uno a uno di Anna e vorrà prendere il posto di Anna Anna si presenta in un posto dove hanno il suo stesso problema ma sono tutte le cisti che hanno sostituito i loro padroni cioè hanno preso il posto dei loro padroni sono tutte cisti che hanno preso le loro le sembianze del padrone e sono coraggiose sono cazzute non hanno cuore di niente cioè hanno hanno affrontato così tante cattiverie cioè che hanno assorbito che ormai sono diventati immuni quindi sono superiori all'originale però non hanno amore non hanno non provano nulla sono proprio freddi ecco sono calcolatori sono quasi dei cyborg diciamo io e qua la nostra protagonista viene rapita Anna stessa viene rapita dalla sua ciste perché la ciste vuole prendere il suo posto e la ciste fa molto meglio di tutto Anna ha più fantasia nei vestiti nel disegnare inizia a fare a scalare proprio gli altri che vogliono salire e entrare diciamo nel team di questo grandissimo stilista e quindi no qua Anna dovrà trovare un modo grazie anche alla sua amica di fermare questa ciste che sta prendendo il suo posto quindi alla fine è questo e il finale è davvero triste ma giusto ovvero che dobbiamo tenerci non possiamo eliminarlo perché qua nel film stesso dice che se lei eliminerebbe la ciste o la ciste eliminerebbe lei anche se cercavano un modo le ciste di liberarsi comprendere dei loro padroni tipo uno c'era riuscito però ci volevano un lungo processo riuscivano a cioè o l'uno o l'altro praticamente morivano entrambi cioè se mancava uno dei due quindi qua questa cosa mi ha mi ha fatto riflettere nel senso che alla fine sì ce le dobbiamo tenere queste cose ce lo terremo per sempre questo il nostro io interno che ci fermerà in tante cose ma lo dobbiamo affrontare e dobbiamo prendere anche cura perché il finale questa creatura ovvero la ciste ritorna lo svuota da tutti i poteri che ci aveva dato Anna perché Anna ha dato questo potere di diventare una persona reale e prendere il suo posto perché ormai Anna era distrutta aveva perso tutto cioè la lui ha approfittato di tutte le debolezze di Anna proprio per autodistruggerla e prendere il suo posto invece Anna stavolta si fa vedere che è risoluta che è una donna che è riuscita nella sua vita si è messa in proprio con la sua amica e questa creatura quindi è diventata comunque è diventata piccolo come era prima una piccola creatura e che lei se ne sta prendendo cura gli dà da mangiare gli dà il ciuccetto ci mette sto coso col vapore per farlo rilassare proprio così dobbiamo rilassarci e questo dico io cioè può sembrare una stronzata del finale cioè guarda lì cagulla questa si pia cura della ciste è ridicolo uno può dire chi è stupido dice ma in un assento gli ci metti il ciuccio perché alla fine dobbiamo cercare di stare tranquilli dobbiamo tenerci calmi e soprattutto calma la creatura o quello che ci abbiamo dentro noi non ci abbiamo sto mostro però alla fine qui l'ha voluto più portare l'esagerazione l'esasperazione questa cosa perché per farcelo più capire e anche avvicinarci più al film perché è una cosa più interessante vedere sta creatura che è più una cosa mentale perché alla fine non è una cosa più mentale io spero che vi è piaciuta la mia recensione spero che vi è piaciuta la mia analisi quello che penso è il messaggio che vuole darci il film fatemi sapere un po' la vostra cosa ne pensate se vi è piaciuto se è stato di vostro gradimento e se anche voi avete avuto quei momenti che vi ha fermato questa creatura interna a noi questo chiamiamola creatura però mi avete capito è da 20 minuti che parlo senza sosta scusatemi sto iniziando diciamo a impappinarmi io vi ringrazio a tutti per l'attenzione spero che sia arrivato fino a qua chi è arrivato fino a qua fino alla fine l'hashtag lo sapete già io come sempre voglio salutare chi è arrivato fino a qua ovvero Ligrosis Radiata Angelo Ignazio Alagna Antonio Tofani Alessia Ranieri Rocco Antonio Sanza La mia ragazza ovvero la regia Katia saluto anche NaturalYook78 e saluto anche Robertone penso che saluto anche Maria Claus e Slasher Girl se non mi sbaglio penso che saluto tutti quelli che mi hanno scritto questa giornata penso detto tutto ci vediamo un prossimo video chissà un gameplay una nuova recensione una notizia dal cinema e non solo voi attivate la lampanellina così non vi perdete nessun video e sarete sempre avvisati mi raccomando ci vediamo al prossimo un'altra notizia dal cinema un'altra notizia dal cinema un'altra notizia dal cinema